Salve a tutti gente e benvenuti nel mio canale YouTube. Oggi voglio effettuare insieme a voi l'unboxing della mia nuova scheda video, un Nvidia GeForce GTX 960 prodotto assieme alla Gigabyte. Praticamente la Gigabyte gli fa gli overclocking, come in questo caso ha messo ad esempio 4GB di RAM GDDR5, un dissipatore di calore e due ventole. Andiamo a vedere meglio nel dettaglio cosa troviamo all'interno della confezione. Allora, intanto questa è la confezione come ci si presenta all'arrivo. Davanti abbiamo i vari marchi, quanta RAM c'è messa, l'Overclock Edition e Windforce che sarebbero le ventole montate. Come possiamo vedere qui in basso, è una scheda adatta per GameStream, GameWorks, G-Sync e supporto a DirectX 12. Nel retro possiamo vedere le caratteristiche dell'overclocking, ovvero le ventole e il dissipatore che sono montati, l'Ultra Durable VGA, che è una caratteristica delle schede NVIDIA, usano componenti che durano moltissimo in pratica, ci dicono. Ovviamente HDMI. Andiamo ad aprire la confezione. Questo è quello che troveremo all'interno della nostra confezione. Abbiamo tutto il bordo, il contorno della confezione in polistirolo per proteggere la scheda. E al centro la scheda vera e propria. La confezione è molto minimale. Andiamo un attimo ad aprirla, perché voglio farvela vedere meglio. Togliamoci del nastro adesivo qua dietro. Ovviamente la scheda viene inserita, viene mandata all'interno di questa confezione antistatica, come quasi tutte le componenti per computer. Se ricordate, nell'unboxing della scheda madre che vi feci, anche lì era inserita dentro una busta elettrostatica. Questa è la vera e propria scheda video. Come possiamo vedere le ventole Windforce. In questo caso ne abbiamo due. Poi c'è anche la versione G1 Gaming, dove ce ne saranno tre ventole. I dissipatori, qui possiamo vedere. E questa è la nostra PCB con la nostra scheda. Qua abbiamo le varie uscite. Insomma, è una scheda veramente molto valida. L'ho acquistata su Amazon. E il prezzo, se non ricordo male, era intorno alle 220 o 230 euro. Mettete comunque il link poi in descrizione, se volete acquistarla anche voi. Ah, ovviamente, non è finita qui, perché? Scusate un attimo. Spingendo il polistirolo verso fuori, Abbiamo anche una guida, una guida veloce e ovviamente il cd con i nostri driver. Ragazzi, questa è la nostra scheda video. Spero che l'unboxing vi sia piaciuto. Potete tranquillamente lasciare un mi piace al video, condividete e iscrivetevi al mio canale YouTube. Alla prossima ragazzi! Ciao a tutti! Ciao a tutti!